è un video? sì, poi ci leviamo l'audio comunque oh ok, va bene mi dico di quello che vuoi manda un bacio ai spettatori, no a me ciao, wow mi sono fidanzato di di picchia mi sa che ieri ce l'ho pubblicato quello che ho fatto a te ieri ce l'ho pubblicato su YouTube su YouTube che ce l'ho pubblicato mi sa l'ha fatto, non ha fatto noi canale 25 su YouTube vai su YouTube metti canale 25, tutto attaccato grazie a tutti grazie a tutti